Il Tribunale di Francoforte ha condannato all'ergastolo un militante dell'ISIS, Taha al-Jumaili, giudicato responsabile della morte per disidratazione di una bambina yazida di 5 anni, comprata come schiava e tenuta incatenata per ore sotto il sole a Fallujah, in Iraq, nel 2015. Il Presidente del Collegio Giudicante ha ricordato che si tratta del primo caso al mondo di condanna del cosiddetto Stato Islamico per atti contro la minoranza yazida. Al-Jumaili, cittadino iracheno di 29 anni, è stato riconosciuto colpevole di genocidio e crimini di guerra. Per gli stessi reati, nello scorso settembre, una donna tedesca all'epoca dei fatti sua moglie venne condannata a 10 anni di carcere. Gli yazidi, un gruppo di lingua kurda proveniente dal nord dell'Iraq, sono stati per anni perseguitati dallo Stato Islamico, che ha ucciso centinaia di uomini, violentato donne e reclutato con la forza bambini come combattenti.